Yacht, motoscafi, barche a vela, il mondo della nautica torna a radunarsi a Genova nel classico appuntamento dedicato alle aziende e agli appassionati del di porto. Ieri è stata inaugurata la 61esima edizione del Salone Nautico, vetrina di un settore che sta conoscendo un momento di forte espansione. La cerimonia di apertura è stata caratterizzata dall'omaggio della nave Rizzo della Marina Militaria italiana, recentemente impiegata in attività antipirateria che ha sfilato lungo il canale del porto. Lo stato di buona salute del settore nautico è stato confermato dal boom di espositori. La domanda aggiuntiva di spazi ha portato gli organizzatori a ridisegnare la logistica. Con l'ampliamento dei principali settori, compreso quello dedicato agli accessori, l'indotto per il territorio viene stimato in 65 milioni di euro. L'esposizione si articola su 200.000 metri quadrati, l'85% dei quali all'aperto, con mille imbarcazioni presenti di altrettanti brand specializzati nella nautica da di porto. Nel suo genere, il Salone di Genova è il più grande del Mediterraneo. Ieri, come detto l'inaugurazione, l'esposizione sarà aperta fino a martedì 21 settembre. Barche, ma non solo. La 6 Giorni Genovese propone anche un ricco programma di forum e convegni.